... Mercoledì 4 agosto, buongiorno, ben ritrovati a tutti, cari telespettatori di Fano TV, questa è Occhio ai giornali, il commento alla stampa del giorno che tutti i giorni dal lunedì al sabato va in onda sul canale 17. Allora vediamo subito il santo del giorno, poi i giornali, anzi il tempo e poi i giornali. Oggi è santo Giovanni Maria Vianney, poi il sole è sorto alle 6 e tramonterà alle 20.29 e adesso il tempo. Per la giornata di oggi, cielo sereno, poco nuvoloso, domani la pioggia, vedete, al primo mattino temporali, poi giornata di venerdì, tempo buono e soleggiato, fine settimana allo stesso, condizioni di tempo stabile e soleggiato, quindi anche per i turisti, possiamo dire, per quelli che sono già qui nella nostra regione e si stanno godendo qualche giorno di vacanza, insomma domani bisognerà fare un programma alternativo. Intanto buongiorno a Marco, il nostro bagnino Marco Giuliani dei bagni Lido 3. Allora, sorridente questa mattina, quindi ci fa piacere, vuol dire che insomma per oggi ti aspetti una giornata di sole? Sì, sì, oggi è una giornata di sole, adesso è un pochino nuvoloso, ma devo aprire e regalarci una bellissima giornata. Ok, mentre domani mi confermi che insomma la giornata non sarà così bella come oggi? Sì, forse un po' di pioggia al mattino o primo pomeriggio, adesso vedremo domani, dipenderà dal vento. Ok, vedo la spiaggia insomma bella sistemata, già dietro di te sono passati tutti i mezzi adibiti alla pulizia, perché la spiaggia comunque di sabbia necessita di un'attenzione particolare, a differenza per esempio della Sassogna dove ci sono i sassi e quindi magari questa deve essere pulita tutti i giorni. Sì, infatti la mattina la prima cosa che facciamo è andare a riva a vedere se ci sono alghe o sporcizia, raccogliamo e passo il camion dell'Asia tutte le mattine che penso a portare via l'impianto. Ok, allora intanto ti auguro una buona giornata a te e tutti i tuoi ospiti che verranno in spiaggia a godersi questa giornata, i turistici li avete? Sì, mi raccomando, questo è importante. Sì, pieno, pieno. Pieno di turisti, insomma siamo nel club poi tra l'altro nelle staglie, l'agosto quindi... Sì, adesso sì. Bene, tutto esaurito insomma. Sì, sì, il weekend tutto pieno. Tutto pieno, grazie Marco, buona giornata, buon lavoro. Allora, io direi di iniziare questa mattina con questa bella notizia, questa buona notizia, buona notizia perché? Perché gli ex violenti, quelli che non si rassegnano alla fine di un rapporto, tutti quelli che non si rassegnano al fatto che la moglie o il marito, a seconda della situazione, decide di cambiare vita e quindi di mollare, ebbene questi ex violenti sotto casa saranno subito arrestati. Firmato Lucia Annibali, questa è la notizia secondo me più importante del giorno. La deputata pesarese di Italia Viva nel 2013 è stata sfregiata dall'acido, lo ricorderete e lo ricordiamo tutti, sfregiata dall'acido per vendetta, il suo emendamento è nella riforma della giustizia, più garanzia dunque per tutte le vittime. Chiaramente gli ex violenti, qui come stereotipo si pensa come sempre agli uomini, agli uomini violenti che non lasciano, non danno tregua alle ex moglie o compagne, però ci sono anche ex donne che non si rassegnano e che rendono la vita un inferno agli ex uomini. Ma questa è la notizia che troverete sul Corriere Adriatico di questa mattina. Lei, Lucia Annibali, ha scritto con il mio emendamento alla riforma della giustizia, ha scritto in un tweet, chi violerà l'allontanamento o il divieto di avvicinamento sarà arrestato in flagranza. Nessuna donna, e io aggiungerei nessun uomo, nessuna vittima di violenza, dovrà sentirsi più in pericolo a casa con i figli al lavoro. Un passo avanti nella giusta direzione. E con questo iniziamo la nostra rassegna. Prima pagina del Corriere Adriatico. Green pass obbligatorio per i prof, edizione di Pesaro. Il governo ha deciso, niente didattica a distanza, ma solo gli studenti di scuola e università entreranno senza lasciapassare. Da settembre sarà indispensabile invece per aerei, traghetti e treni a lunga percorrenza. Tagli al prezzo dei tamponi. Mentre a centropagina, notte di San Lorenzo blindata, a lume di candela e di controlli. Per il San Benedetto invece Ricci vede a Guzzi, bisogna accelerare. Ciclovia, se riscrive alla Regione, trovata l'intesa sul tracciato. Stalker sotto casa saranno arrestati, firmato a Nivele. L'abbiamo appena visto. Poi la Regione fa bingo, altri 90 milioni per il Porto. La notizia di alcuni finanziamenti in arrivo. Erano volati stracci tra Acquaroli e l'ex presidente dell'autority, Rodolfo Giampieri. Ora, dopo il pressing della Regione, si passa dai 20 iniziali ai 156 milioni di finanziamento, dal PNRR all'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Centrale. Sotto invece la cronaca con l'auto contro il bar, i clienti via poco prima, maestra perde il controllo della Panda a Gadana. Siamo vicino a Urbino, tavoli del Deor Travolti, tragedia sfiorata al 51. E poi il ritorno del campione olimpico di Santo Inalto, Tamberi. Grande festa a Fiumicino, grande festa all'aeroporto di Roma. Andiamo a vedere adesso il Corriere Adriatico, file in farmacia per la carta verde, scatta la corsa per il certificato. Il caso di un manager che cerca di ottenerlo in vano però da tre mesi. Valentino invece il pressing degli arabi, voci di vendita della VR46 alla holding del Principe Saudita. Nascerà una nuova scuderia nel 2022. Poi sotto le stelle ma con il Green Pass, la notte delle candele a Pesaro e a Gabicce. Da Pesaro a Gabicce controlli a campione su migliaia di partecipanti. Mentre Corinaldo, mai più stragi, il divertimento sia sicuro. Giornata della memoria, ok, da parte della Regione. Questa giornata sarà l'8 di dicembre. E poi la Serie C, il Fano deve attendere e intanto va in ritiro. Retromarcia su voli, treni e traghetti. Green Pass soltanto da settembre. Domani la cabina di regia e il Consiglio dei Ministri. Muro della Lega sul certificato per i trasporti dal Carroccio. 916 emendamenti al decreto legge, lascia passare per musei, stadi e locali pubblici. Mentre questa è la pagina del Corriere Adriatico. Effetto Green Pass, raddoppiati i vaccini e i tamponi in farmacia. Nelle comunali ingaggiato altro personale per rispondere alle richieste. Il Presidente di Aspes, Pieri, dice una valanga di teste. Questa è stata la vera sorpresa. Io direi assolutamente di no perché l'obiettivo chiaramente di questo Green Pass era proprio questo, quello di invitare, tra virgolette invitare, obbligare forse la parola più giusta, le persone a fare appunto questo vaccino e quindi ad ottenere il certificato verde. Quindi parlare di sorpresa mi pare che sia un po' così. Intanto sempre sul certificato verde. Fano blinda i luoghi degli spettacoli all'aperto. Il Green Pass sarà necessario per accedere anche alla Fiera di San Bartolomeo che si svolge dal 24 al 26 agosto nei viali della Sassoni. E poi il prossimo fine settimana si svolgerà la rievocazione della Fano Romana. Le rievocazioni in piazza saranno ad accesso libero. Quelle all'interno della Corte Malatestiana invece richiederanno il Green Pass. Quindi il fatto che non ci sia il tetto sopra ma quattro buoni intorno è evidentemente concepito come qualcosa che sia il chiuso e quindi lì ci vuole il Green Pass. Vabbè. Farmacie. Corsa alla stampa della carta verde con la tessera sanitaria. Tutto rapido e gratuito. Il 6 di agosto è vicino. Così si mettono in fila anziani poco abituati al digitale e giovani a cui non è arrivato il messaggio dopo la dose. Richieste continue a Piazza Redi. A volte ne rilasciamo anche 20 al giorno e soprattutto sono per gli over 60 al San Salvatore. Invece il foglio che diamo è disponibile in quattro lingue e diventa come un passaporto. Le dosi iniziano a scarseggiare però e i vaccini sono stati rinviati in attesa dei sieri. Ieri una fornitura di Moderna. Oggi invece arrivano 5.000 dosi di Pfizer. Questa è una notizia che arriva da Ancona. E' un fatto che sta capitando un po' in diversi hub vaccinali, cioè quei centri dove si vaccina, con segnalazioni che arrivano da tutte e cinque le aree vaste della regione. Ci sono queste carenze. Oggi però arrivano questi 50.000 Pfizer. quindi probabilmente questo rallentamento diminuirà. Ancora dai giornali. Allora, ecco qua. Pagina 3 del resto del Carlino. Candele sotto le stelle ma con il Green Pass. Controlli a campione per migliaia di partecipanti. Ora va detto che purtroppo dal 6, quindi da venerdì il Green Pass servirà anche per altre manifestazioni, quindi compresa quella di Senigallia, compreso il Giamborì. E quindi anche lì bisognerà avere il certificato verde. Controlli a campione, dicevo, per migliaia di partecipanti. L'evento sarà martedì 10, coinvolte Gabice Mare e Gradara. Chi non è ancora vaccinato potrà fare i tamponi gratuiti al campus, il 9, il 10, il 13 e il 14. E che cosa dicono? Ieri c'è stata la presentazione di questo evento. Vogliamo dare a tutti la possibilità di partecipare alle iniziative. Cioè chi invece non ha intenzione di sottoporsi a tampone e non è in possesso di Green Pass, rischia fino a 400 euro di multa se fermato dalle forze dell'ordine durante i controlli nel corso della serata. Sono previste tra le 30 e le 40 mila persone dislocate in tutto il litorale. Ora, da vedere queste 30-40 mila persone. Non so se sarà esattamente così, ma vedremo. Intanto trovata una bomba, 11 residenti da evacuare, alle 9 di questa mattina, quindi tra poco, scatta l'operazione per la bonifica, il rinvenimento venerdì durante la ratura di un campo tra Magliano, Ferretto e San Cesario. Siamo nell'Interland, nelle immediate vicinanze, nelle prime colline di Fano, dove appunto è stato trovato questo ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Questa mattina alle 9 ci sarà questa operazione di bonifica. Però siccome è un ordigno bellico che in qualche modo è ad alto potenziale esplosivo, tutta l'area che è attorno, quindi 381 metri, qui uno si potrà anche sorprendere un po' che c'entra, non potevano fare 380, 381? Sì, è così. Ci sono dei calcoli matematici che si fanno in questi casi e quindi quello è e quello deve essere. Ora, quindi ci sono delle famiglie, 11 in particolare, che tra poco dovranno iniziare appunto ad uscire, quindi organizzarsi e far rientro appena queste operazioni di bonifica saranno terminate. La Carlino di Fano a pagina 12, le vetrine chiuse diventano una mostra, poster affissi sulle facciate dei negozi rimasti vuoti negli ultimi anni, ma non mancano le polemiche. Vi abbiamo fatto anche vedere un servizio nel telegiornale di ieri sera alle 20.30. Insomma, il colpo d'occhio non è male, certamente, è meglio che vedere una serracinesca chiusa, magari anche arrugginita. una bella fotografia come quelle che pubblica il giornale questa mattina, sempre meglio di niente. Però, insomma, questo non ci fa stare comunque sereni perché vuol dire che la crisi morde e che l'economia non è un granché, anche nella nostra città. Poi, giornata sulla sicurezza, in nome di Benedetta, l'Assemblea Legislativa delle Marche ha approvato all'unanimità questa istituzione della giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza che sarà celebrato l'8 dicembre. Mentre Urbino, qui le fotografie, la fotografia anzi, di questa auto che è finita contro la pensilina di questo bar, auto sfonda la veranda del bar di Gadana, tanta paura e nessun ferito, per puro caso poi, perché al volante della Panda c'era una signora che a un certo punto ha centrato questo pallo, dove poco prima però c'erano degli avventori, quindi era frequentato questa piccola area fuori dal locale, quindi poteva essere davvero una tragedia. I Vigili del Fuoco però poi hanno messo in sicurezza tutta la zona. Andiamo adesso invece sulla pagina 4 del resto del Carlino. Nessun ristoro per bar e ristoranti, a fondo di Michela Vitri contro la Giunta, disattese per l'esponente del PD, le speranze di baristi e ristoratori che hanno subito pesanti perdite durante il lockdown. E i soldi per il turismo, la maggior parte, vanno a sostenere la comunicazione. Questi fondi erano stati sollecitati anche da esponenti dell'attuale maggioranza. Mentre la pagina 10, l'ultima pagina della nostra rassegna, è per lo sport, dal Principe, 150 milioni di euro per convincere Valentino Rossi, i possibili scenari finanziari dell'accordo che farà nascere il team Aramco VR46, una maxi-sponsorizzazione poi fino al 2026 e il sogno di avere Valentino Rossi in sella anche nel 2022. L'obiettivo è quello di far correre Valentino accanto al fratello Luca Marini che, insomma, c'è tanto pressing, tanto pressing, diciamo, dalla rabbia perché, come anticipato, il sole 24 ore nella giornata di ieri, il giornale economico, si è in attesa in questi giorni del sì o del no da parte di Valentino Rossi a rimanere in pista anche nel 2022. Ci sono alcuni particolari, per esempio, secondo queste indiscrezioni raccolte dal quotidiano economico, questa joint venture Italo-Arabo potrebbe portare addirittura alla vendita da parte di Valentino Rossi della sua VR46, poi dall'Academy quindi alla Racing April, quindi tutto quanto per una cifra vicina ai 150 milioni di euro continuando però poi ad avere un ruolo centrale all'interno di tutta questa struttura. Come dire, non se ne deve andare, deve rimanere lì. Poi c'è anche il discorso della sponsorizzazione, si parla di una cifra approssimativa di 20 milioni di euro all'anno dal 2022 fino al 2026. però Rossi ci deve pensare e lo deve fare comunque in tempi brevi, quindi qualche giorno e poi dovrà dire allo scelco sì o no. Fossero questi tutti i nostri problemi, come voi dite, non sarebbe male. Noi ne abbiamo altri, ma comunque cerchiamo di affrontarli. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo questa sera alle 20 e 30 l'appuntamento con il telegiornale Occhio alla Notizia e per le vostre segnalazioni il numero che vedete in sovraimpressione. Grazie per essere stati con noi e buona giornata a tutti.